La vita per i gay in Uganda è sempre stata molto dura, basti pensare al caso di Devikato che venne ucciso nel 2011 dopo che un giornale ugandese aveva inserito il suo nome in una lista di gay sotto il titolo Impiccateli. In quella lista c'era anche il nome di Kasha Nabagesera che da allora dorme ogni giorno in una casa diversa perché ha paura di ritorsioni per il suo impegno contro le discriminazioni in Uganda. La legge che è stata approvata oggi era stata presentata in Parlamento già nel 2009 e prevedeva persino la pena di morte per gli atti intimi fra omosessuali, pena che adesso è stata sostituita con l'ergastolo. Ora manca solo la firma del presidente Museveni ma non è scontato che arrivi. Ha cerchiato da critiche internazionali e timoroso di perdere sostegni economici non indifferenti ha di molto ammorbidito la sua posizione. Se prima disprezzava tutti i gay adesso dice di criticare solo quelli che fanno vanto del loro orientamento sessuale.